Come probabilmente già sapete, la famiglia di solito è molto importante per gli italiani. Quindi, oggi voglio spiegarvi come si chiamano tutte le persone all'interno di una famiglia. Ciao a tutti e benvenuti! Sono Mattia, di Lingua Franca. Prima di iniziare vi ricordo che se state imparando l'italiano potete iscrivervi al canale cliccando iscriviti qui sotto. Ogni settimana troverete nuovi video dedicati all'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Se chiacchierate con un italiano è molto probabile che vi chieda della vostra famiglia e può essere anche un buon modo per iniziare una conversazione. Prima di tutto cominceremo dall'albero genealogico di una famiglia, spiegando chi sono per voi tutte le persone al suo interno. Dopodiché faremo un po' di esempi, così che possiate vedere queste parole utilizzate in frasi reali. Vi suggerisco di non imparare mai le parole da sole, ma sempre all'interno di un contesto. Sarà molto più facile ricordarsele. Ecco qui un albero genealogico. Naturalmente tutti i nomi che vedete sono riferiti a voi, ovvero è il nome con cui chiamereste quella persona. Questi sono tutti i vostri parenti. Occhio che questa parola è un po' diversa dall'inglese. Iniziamo andando verso l'alto. Prima di tutto abbiamo i vostri genitori, la madre e il padre, che, proprio come in inglese, possono essere chiamati in maniera più affettuosa mamma e papà. Se hanno dei fratelli, saranno i vostri zii. Si chiamano zii materni se sono dalla parte di vostra mamma, o zii paterni se sono dalla parte di vostro papà. Gli zii sono lo zio, maschio, e la zia, femmina. Salendo di una generazione troviamo i nonni. Si dicono nonni materni se sono i genitori di vostra madre o nonni paterni se sono i genitori di vostro padre. I nonni sono il nonno, maschio, e la nonna, femmina. Se i vostri nonni hanno dei fratelli, saranno i vostri prozii, il prozio, maschio, e la prozia, femmina. Salendo ancora più su troviamo i bisnonni, che sono i genitori dei vostri nonni. Qui, per differenziare i generi, abbiamo il bisnonno, maschio, e la bisnonna, femmina. Torniamo invece alla vostra generazione. Potreste avere uno o più fratelli. Il fratello, se è maschio, o la sorella, se è femmina. Ora è il momento di scendere lungo l'albero genealogico. Se avete dei figli, saranno il figlio, maschio, o la figlia, femmina. Se invece sono i vostri zii ad avere dei figli, saranno i vostri cugini, il cugino, maschio, e la cugina, femmina. Se poi i vostri figli faranno dei figli a loro volta, saranno i vostri nipoti. Non importa se maschio o femmina, sarà il nipote o la nipote. E nipote è anche il nome con cui potete chiamare il figlio o la figlia dei vostri cugini. Finora abbiamo parlato quasi solo di parentele dirette o di sangue. Ma come si chiamano tutti i parenti acquisiti? I parenti acquisiti sono i parenti con cui non avete legami di sangue. Prendiamo, per esempio, i parenti del vostro compagno o della vostra compagna, che se siete sposati sarà vostro marito o vostra moglie. Se ha fratelli o sorelle, saranno i vostri cognati, il cognato maschio e la cognata femmina. I suoi genitori saranno i vostri suoceri. Il papà è il suocero e la mamma è la suocera. E i compagni o i coniugi dei vostri zii? Anche in questo caso funziona come in inglese. Il partner di vostro zio o di vostra zia sarà anche lui o lei, vostro zio o vostra zia. Terminiamo con i compagni dei vostri figli. Abbiamo il genero, maschio, e la nuora, femmina. Ora sapete come si chiamano tutti i vostri parenti più vicini in italiano? Naturalmente si può anche andare oltre, ma difficilmente dovrete parlare a qualcuno del vostro pro-pro-zio o della vostra pro-pro-cugina seconda. Però in descrizione troverete comunque un link a un'immagine con i nomi di tutti i vostri parenti in italiano. Come sempre ricordarsi le parole è molto più semplice se le inserite all'interno di una frase con un contesto. Quindi ecco alcuni esempi. Benissimo! Ora per allenarvi scrivetemi un commento qui sotto dicendomi qual è il vostro parente preferito, naturalmente in italiano. E dopo averlo fatto andate a vedere uno di questi video e se vi è piaciuto questo video non dimenticate di farlo sapere a YouTube cliccando mi piace qui sotto. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video! Buon italiano a tutti!